buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio ben trovati noi facciamo scattare l'ora solare ogni giorno alle ore 14 in punto su tv 2000 e oggi come inizio di settimana insomma questo vogliamo raccontarvi facciamo scattare un'ora solare molto solare solarissima proprio un sole che entra nelle vostre case non importa che tempo ci sia fuori questo sole ha un nome e un cognome signore e signori enrica bonaccorti perché il sole il sole il sole che si raggi no 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 non è non è il colore dei capelli né tampoco il taglio signora bonaccorti buon pomeriggio un pomeriggio trovata è bello ma come ti presenti il sole il sole io sono lunatica ombratine però questo non passa passa una una capacità è certo come si fa non farla passare questa perché ti aiuta aiuta anche se stessi se tu riesci ad affrontare anche i momenti cupi con un sorriso che non è un sorriso finto certo ma un sorriso di di gioiosa sopravvivenza per cui uno deve sempre pensare che bello sono al mondo che bello viva la vita certo è vero è vero in qualsiasi caso in qualsiasi momento e poi ci sono proprio delle regole e che ci ha insegnato la psicologia insomma tutte quelle quelle quegli studi lì praticamente dicono che il nostro cervello è stupido per cui è già un buon inizio questo lo inganni vi mettete davanti allo specchio e vi fate un sorriso finto è sicuramente finto perché se lo state cercando no siete molto tristi ma non mi importa nulla voi fate un sorriso finto il cervello è stupido sente questi muscoli capisce che invece sbagliando che tu sei contenta e comincia a svilupparti serotonina e tu un po stai meglio ingannate il vostro cervello guardatevi allo specchio sorridetevi e vedrete che qualche cosa succede l'avevo detto è una ricetta che rende andiamo andiamo di ricette particolari in questo in questo nostro lunedì catalogo dei viventi stilato da giorgio dell'arti fra i 5062 italiani notevoli enrica bonaccorti è così rappresentata attrice e conduttrice una bellissima ragazza diventata adulta ma rimasta entusiasta come una bambina ed è così sì questo si ed ecco non ho cambiato molto il mio modo di essere proprio quello vero da quando avevo 14 anni e mezzo io quanti anni avevi invece no qui ero già grande qui avevo non sembra beh qui no qui avevo 52 53 anni vergogna perché no nel senso no volevo dire una cosa scortese ma insomma si ero in teatro ero in teatro credo che sia l'ultima cosa che ho fatto in teatro era rosa no si sia rosa caduca l'ho fatto 40 anni fa rosa caduca a siracusa ma questa è realtà ormina festival di taormina con il mio golfino che era il mio amichetto nel cuore che è stato con me quasi 17 anni per cui proprio un parente stretto un parente veniva sempre con me potevo portarlo anche in chiesa aspettava di uscire il miss a est prima di assisi facciamo il servizio fotografico ancora un po io dicevo sorridi a proposito di allora enrica enrica che comprende in sé davvero tante professionalità diverse in una persona sola perché il cuore di enrica è quello la generosità è quella lo stile è quello ma lei ha saputo spaziare e continua a farlo dal teatro alla radio a questa radio che non mi fai soffrire io lo sapevo che con te soffri no 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 e con le cose più vere ecco vedi qua sono alla radio questa 97 dal 96 al 98 quando ero alla guida del chiamate roma 3131 che mi ha dato i premi più importanti anche perché non quell'occasione dei premi e qui c'ho delle pagine che la nostra sarà cacioppo mi ha preparato la nostra autrice che giustamente non finiscono più allora riceve per il chiamate roma 3131 premi giornalistici come il flaiano il penne pulite il guidarello per il quale presidente sergio zavoli dalla seguente motivazione enrica bonaccorti è una giornalista prestata allo spettacolo sono cose belle no questa è la prima volta che ho fatto la guarda la data e me prego guarda la da sì 1875 ma smettila la prima cosa che facevo alla radio come autrice insomma ideatrice di una cosa prima avevo fatto soltanto un altro programma in cui porgevo degli stimoli diciamo delle domande e delle delle suggestioni ad alfonso gatto grandissimo poeta sono l'italetto perché poi mancò pochi mesi dopo e io ho vinto un provino e mi ritrovai accanto ad alfonso gatto lì mi entusiasmai per la radio e poi ci fu appunto il la riforma nel 75 della rai e chiesero a tutti di portare dei programmi c'è un'apertura in questa azienda no cambiavano molte cose e io portai mi pare sei sette programmi presero uno e fu quello per chi suona la campana fatto insieme a lino matti un altro giornalista genovese come me bravissimo e insieme abbiamo costruito questo programma e che andato benissimo subito tanto che poi dopo pochi mesi ho preso la maschera d'argento che avevo appena iniziato e la radio io la adoro e quello che mi manca veramente in questo momento nella mia vita è la radio perché fino a sei anni fa la facevo tutti i giorni su radio 1 tornando a casa ogni pomeriggio e mi manca quello mi manca la televisione posso dunque la radio si per la radio ci si tocca l'anima radio alla radio la quale è la mamma di tutto poi di tutta la comunicazione sulla quale noi viviamo però è vero alla radio ci si si ci si dà la mano senza senza vedersi si crea quell'attenzione quello stimolo a dire ti racconto una cosa ma la racconto abbastanza brevemente quanto basta per ma in tutto questo la domanda è ma la piccola enrica bonaccorti chicca la chicca la chicca quando ha capito e ha deciso e ha ha sentito dentro quella voce che ti fa dire sai che c'è io io mi metto a scrivere mi metto a pensare mi metto perché racconteremo i libri di di enrica chicca racconteremo i viaggi di enrica chicca perché no perché io sto tornando indietro e c'è scritto che il cuore entusiasta con una bambina quindi io vado vado all'indietro quando è stato prima di ricominciare il nostro racconto e di andare in pubblicità quando è stato il momento in cui tu hai detto sai cosa c'è faccio questo beh ci sono stati dei prodromi a questo perché io ricordo che fin da bambina entrava nella stanza in cui papà che comandava la caserma io vivevo in questa caserma mandava quelli che sono comportati male no senza i lacci delle scarpe la cintura e così quando era libera questa 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 camera era la 14 io c'entravo dentro e facevo lo spettacolo e poi dicevo al piantone fai entrare le guardie adesso facciamo lo spettacolo ma non so cosa facessi comunque avevo sempre una propensione a questa estroversione ma una volta quando avevo 16 anni era appena arrivata a roma con la scuola ci hanno portato all'eliseo a vedere uno spettacolo che era black comedy il protagonista era giancarlo giannini noi eravamo con tutta la classe in cima in loggione e ho visto quanto è piccolo quel calcoscenico dall'alto di solito non sono mai andate o stavo giù oppure non so no così in alto e vedevo giù questo protagonista che poi era giancarlo giannini che recitava io ho pensato ma seriamente lo ricordo come fosse dieci minuti fa ma io perché devo stare qui io devo stare lì allora invece di stare lista qui adesso con noi ci fermiamo per un istante e poi riapriamo con una poesia in musica che è tutta colpa di enrica bonaccorti la lontananza e c'è anche in mezzo mimo modugno ovviamente a tra poco e l'ora solare di oggi è enrica bonaccorti enrica bonaccorti che raggi 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 ovunque che è anche questo la lontananza la lontananza sai che è come il vento che va a dimenticare chi non sa è già passata un anno è un incendio che mi brucia la lontananza io che credevo di essere il più forte mi sono illuso di dimenticare e invece sono qui a ricordare a ricordare te e perché questo è questo è c'è stata c'è un grazie che noi ti dobbiamo no e non solo per tutto il tuo lavoro per tutta la tua radio per tutta la tua televisione ma anche per questo questa questa canzone iniziava con delle parole non con un canto che quella sera in turné eravamo quando io proposi a mimo queste parole della lontananza su una musica che aveva già altre parole aveva già altre parole questa canzone però mimo non era convinto e mi disse non è che c'è un'idea io gli parlai della lontananza lui impazzì cominciò a saltare da una parte all'altra dicono sì sì scrivi 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 ma io ero stanca era dopo lo spettacolo non stavo neanche troppo bene però stanca e io non ce la faccio scrivi adesso scrivi anche non in metrica scrivi quello che ti ricordi e infatti io ho detto non in metrica vado e ho scritto mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove io mi paura perché sempre quando sento questo suono penso a qualcosa di grave non mi rendevo conto che non poteva accadere nulla di più grave nel nostro lasciarci allora come ora ci guardavamo avremmo voluto rimanere abbracciati e invece con un sorriso mi hai accompagnata per la solita strada mi hai baciata come sempre mi hai detto dolcemente la lontananza sai è come il vento spieghi i fuochi piccoli accende con i grandi e lì partiva e lì partiva hai capito e il giorno dopo abbiamo fatto poi insieme le parole su sulle note mentre il parlato a mimmo l'ha voluto lasciare esattamente meno male che ho la camicia con le maniche lunghe perché ho la pelle d'oca alta così perché tu sei proprio ma per carità avevo 19 anni avevi 19 anni e sapevi già fare tutto questo erino sempre scritto tanto parliamone perché mi sono sorpresa non so se bene o male un po bene sicuramente ma anche un po preoccupata quando ritrovato la mia poesia nel 65 dunque avevo 15 anni che finisce così e il primo giorno nel mio futuro non è già più che l'ultimo nel mio passato e questo va bene questo è proprio siamo sull'ordine di una filosofia attenzione attenzione un pessimismo cosmico fin da piccolo però sono solare la lontananza 1970 eccola lì adesso ve lo ripeterà 20 gennaio 71 71 è sempre mimmo modugno ed è amara terra mia l'ascoltiamo mi commuove sempre questa casa questa commuove sempre tu hai fatto una hai dato un voto altissimo a erma almeta che a sanremo 2017 ha saputo questo questo brano come anche la lontananza che è stata tradotta anche in cinese per dire è stata miscata all'inizio con l'inizio della butterfly pensa la canta una soprano in cina pure in arabo ma amara terra mia anche questa è stata molto molto ripresa e trovo che sia la versione dei radio nervis che quella di erma almeta e ha colpito questo questo voto positivo di enrica perché perché di chi ha aiutato ha spinto ha scritto per mimmo modugno questa canzone che che a metà e qui di comodugno è facile tra la poesia e la musica e sai di essere un canto popolare antico dentro è del seicento che l'abruzzo dice che abruzzese la calabria dice che calabrese comunque è un canto del nostro sud e dell'immigrazione e da quel nucleo di canto e di due parole che sono soltanto addio addio amore poi mimmo insieme a me ha costruito tutto il resto ed è una cosa però c'è una parola e della mia mamma quale è la più bella di tutte perché mamma mi trovò in salotto con un tacuino che diceva ma cosa stai facendo lì e ho detto mamma sto cercando una parola perché mimmo giustamente dice non può essere sardegna terra mia perché questa canzone anche questa deriva da alcune parole che ho sul mio diario di 17 che facciano sardegna terra sardegna terra mia e mi ha detto ci vuole una parola per tutta italia io la stavo cercando mamma passò con tutte sai le gli asciugamani le lenzuola aveva stirato per riporle non nel cassettone fece così mi ricordo che cosa stai facendo lì dico sto cercando questa parola così e cos'ha e lei mi disse perché non ci metti amara e quindi grazie alla signora bonaccorti grazie alla professoressa grazie alla mamma questa signora guardate quanto è bella se non c'erano dubbi e si è veramente splendida dentro e fuori amara qui c'è un racconto non dubito enrica non dubito e si vede questo c'è un racconto amaro e importantissimo che enrica ci fa in questo momento che è quello del suo viaggio in ruanda a è stato forse senza forse l'esperienza che più mi ha toccato nella vita perché a noi succede sì di fare lo spettacolo con leggero divertente con bello con una situazione non molto ricca magari o molto divertente e poi ti capitano anche delle cose molto speciali mi sono successe con l'anlice che è nato da me ed amato tanti tanti anni fa o altre situazioni del genere con l'anlice ma una cosa così allora non dovevo essere io da andare hanno chiesto prima da altre due tre testimonial più importanti di me fate voi nomi insomma colleghe molto molto che non sono andate perché una non poteva l'altra non voleva il marito cose del genere per cui sono arrivati a me e io ho detto di sì e sono andata a pochi mesi neanche un anno dal genocidio che in due giorni ha fatto un milione di morti in ruanda proprio in ruanda a kigali siamo scesi a kigali e già l'aeroporto era un gruvi era di di mitragliatrici dappertutto era tutto le mura non del gruviere insomma no e la situazione era le cose che ho visto e però quella settimana addirittura che ho passato proprio in quell'hotel che ha dato il titolo al film hotel ruanda e sono state qualcosa che non si cancellerà mai io d'ora in poi sapete per noi i neri possono essere un po tutti uguali non riusciamo a capire se una del kenya una del senegal e una dell'egitto è difficile d'ora in poi ho pensato ho scritto nell'articolo a fronte di questa esperienza quando carezzerò la testolina di un bambino saprò che nel ruanda se sentirò tutti gli avvallamenti che il macete ha fatto sul suo corpo perché non avevano neanche i soldi non per una pistola per un proiettile e si sono massacrati il giorno dopo essi seduti per mano solo con quello che avevano che sono i macete per cui vedevi tutta gente spezzata gente ferita una signora bellissima perché poi i tuzzi sono quelli alti alti lunghi lunghi molto belli era per strada seduta con questa gamba lunghissima così e il braccio così anche quello lunghissimo che chiedeva l'emosina passando dall'altra parte l'altra parte della signora non c'era era stata tagliata a metà ed entrare in questi orfanatrofi pieni di bambini meravigliosi che vorrebbero tutti venire con te e ti seguono la camionetta in cui tu sei andata in questi posti beh andarsene è difficilissimo e non portarseli tutti in greppo in grembo è difficilissimo e pensiamoci a questo quando magari siamo insofferenti di certe situazioni sul nostro territorio per favore pensiamoci perché non questo non è quella orrenda parola che si chiama buonismo questa è semplice umanità punto e questa è come ho detto aprendo la puntata signore e signori Enrica Bonaccorti grazie ciao Paola grazie grazie a te arrivederci a tutti